Mio padre diceva sempre che di fronte alla morte bisogna rimanere in silenzio per darci il tempo di pensare. E in questo il carcere assomiglia alla morte. Il tempo per pensare non manca. E così noi che il carcere lo abitiamo, le cose che fuori ci sembrano sfuggenti, incompensibili, a poco a poco ci appaiono chiare. Anzi chiarissime. Sei già al patto col diavolo? E il male minore.